Bella raga, benvenuti un'altra volta nel mio canale di Giuseppe Pernica Fai da Te. Oggi vi voglio presentare un nuovo progetto che potrebbe essere anche un'idea per Natale oppure una bellissima idea per abbellire una scrivania a te. Ovviamente il nome del progetto è un semplice portapenne riciclato da un altro portapenne però l'unica differenza è che ho aggiunto alcune particolarità a questo portapenne. Poi casomai ci vediamo dopo per i saluti finali di Giuseppe Pernica Fai da Te. Andiamo a vedere questo progetto del portapenne riciclato. Ovviamente è questo qui che state vedendo. È un semplice portapenne che ovviamente è stato realizzato diciamo con una semplice basetta. ovviamente la particolarità di questo portapenne è riciclato da un altro tipo di portapenne però la particolarità è questa perché queste belle luci LED che permettono di illuminare in una qualsiasi zona a buio, in una scrivania, in qualsiasi cosa che ovviamente voi potete avere per avere delle cose. Ovviamente il portapenne si presenta in questo modo. Potete mettere, come sto vedendo, io sto buttando all'interno del portapenne, sto buttando un po' di tutto. come state vedendo al portapenne, un attimino che ve lo avvicino un po', e eccolo qui, eccolo qua. Questo qua è il portapenne tutto completo, completo. Ovviamente qua dietro abbiamo il suo, la sua batteria dove potete mettere le batterie autodicaricabili, quello che voi volete, questo è il portapenne tutto completo, a 360 gradi. Ovviamente ci vediamo ovviamente per i saluti finali da Giuseppe Formica. Fai data, ci vediamo a dopo. Ciao ciao. Ovviamente se vi piace questo bellissimo video del portapenne riciclato, ovviamente un mi piace è sempre il giardito, ovviamente i miei siti dei miei sottolineati, ovviamente li trovate sempre sotto nella descrizione, ovviamente avete sempre la barra riservata sempre per i commenti, sempre ovviamente sotto nella descrizione. Ovviamente da Giuseppe Formica, fai da te. E' tutto, ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto. Ciao bella raga!